Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del Tg6 che apriamo parlando di politica perché sul caso della gestione H scende in campo anche la CGL e tanti punti ancora da chiarire sul corretto funzionamento dell'azienda comprensoriale acquedottistica, punti che secondo il sindacato necessitano di essere discussi in un tavolo partecipato anche dai sindacati, questo l'appello lanciato alle istituzioni. Francesca Romanatesti. Il governo dell'acqua è una cosa seria, una sottolineatura che la CGL ritiene fondamentale nel caso scoppiato sulla gestione H, una pertinenza di competenza dei comuni e non della regione, questa la stoccata rivolta al presidente Luciano D'Alfonso che aveva fatto sentire la sua voce sulla questione. Prima di parlare di nomi papabili e nuovi governi sarebbe il caso di fare chiarezza sui tanti interrogativi sul tavolo che la CGL snocciola davanti alla stampa per chiedere un tavolo di concertazione davanti alle istituzioni. Chiediamo ai sindaci se siamo d'accordo su quali sono le priorità dell'acqua, di un'azienda che distribuisce, che rende un servizio di distribuzione e di depurazione delle acque, quali sono le priorità, quali sono le emergenze da affrontare, anteporre le questioni di chi deve dirigere l'acqua senza un ragionamento sul merito delle questioni e diventa, non lo comprendiamo, anche perché se messa in questi termini pare che ci sia una questione che chi deve decidere a chi deve rispondere. L'acqua è della collettività, i sindaci decidono non in quanto sindaci, in quanto capi della loro collettività. E poi si parla anche di parlare della questione della gestione dell'acqua in Abruzzo, non solo del caso dell'acqua, perciò il confronto riguarda anche il Presidente della Regione? Noi dobbiamo capire se c'è un'idea di sviluppo sostenibile che riguarda anche la gestione dell'acqua, che renda possibile il governo delle spa pubbliche che ci sono, secondo criteri di pubblico, secondo criteri di risposta alla collettività, per esempio che hanno la possibilità di ridurre i loro costi, che hanno la possibilità di diversificare le loro tariffe per dare la possibilità a chi ha meno di pagare di meno e che questo governo dell'acqua risponda appunto a criteri democratici, ma di un'azienda moderna, efficace ed efficiente. Siamo alla pagina della cronaca, ennesimo schianto tra due auto sulla strada statale 17 alla periferia di Aquila Est, all'altezza della biforcazione con la strada 261 vicino alla frazione di San Gregorio, probabilmente a causa dell'elevata velocità una Mercedes Station Wagon che procedeva in direzione del capoluogo non è riuscita ad evitare una utilitaria nera che si immetteva sulla strada statale che è centrata, è stata così sbalzata su una scarpata e ha girato più volte su se stessa prima di fermarsi, il conducente della Mercedes è rimasto ferito ma in condizioni più gravi sono i due anziani, un uomo e una donna che erano a bordo della vettura nera, uno dei quali è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso per estrarlo dalle lamiere dell'auto, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo sul posto, sono intervenute anche tre autoambulanze più l'elicottero del 118 e i vigili urbani dell'Aquila e noi restiamo ancora nel capoluogo di regione perché deteneva un grammo e mezzo di ruina nel Borsello ma la polizia lo ha scoperto ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'episodio si è verificato nella frazione aquilana di Roio nel piazzale antistante l'ufficio postale dove c'era la fermata degli autobus a procedere al controllo dell'uomo che ha precedenti specifici sono stati gli agenti della squadra mobile insospettiti dall'atteggiamento del denunciato il quale alla vista della polizia si è mostrato nervoso ed inquieto, è stato così perquisito e è stata trovata dagli agenti la droga e come detto per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero e noi ci spostiamo a Pescara perché si è svolta dalle prime ore della mattina lungo il litorale compreso proprio tra il capoluogo adriatico e il roseto degli Abruzzi l'esercitazione guidata dalla guardia costiera che ha visto la simulazione di un intervento causato da un veicolo in avaria alle operazioni di salvataggio ha partecipato anche la protezione civile, in campo la Croce Rossa e altre forze dell'ordine esercitazione che si è conclusa da pochi minuti andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi Una simulazione che avviene all'interno della centrale operativa della Capitaneria di Porto di Pescara in realtà poi si inserisce in un quadro europeo, ci sono degli osservatori, al lavoro ci sono molti uomini l'obiettivo e la finalità qual è? L'obiettivo e la finalità è quella di stabilire delle procedure e provarle, testarle sul campo attraverso questa esercitazione per favorire l'integrazione tra le diverse modalità operative tra le nostre organizzazioni di soccorso, la nostra quindi quella delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera e le organizzazioni deputate alla stessa attività, francese e spagnole in più abbiamo la presenza di alcuni osservatori, in particolare degli amici colleghi croati, sloveni, albanesi e spagnoli ci sarà un debriefing nel pomeriggio a quale parteciperanno tutti i soggetti che al vario titolo sono intervenuti all'esercitazione sia in sala operativa, sia in mare, sia in aria e lì saranno analizzate le diverse criticità a caldo poi ci sarà del tempo per poter far sedimentare questo tipo di esperienza e valutare effettivamente se le criticità rilevate possono essere e sussistono e possono essere come rimosse La simulazione di oggi ecco appunto che cosa ha messo in campo, si parla di un aereo o si parla di un intervento in mare Notizia di un evento, area incerta di ricerca, la prima cosa da fare in questi casi visto che la rapidità di intervento è fondamentale invio di un aereo sul posto per individuare dove far dirigere i mezzi navali a disposizione l'aereo ha rilevato alcuni punti, li ha passati alla sala operativa nostra e noi stiamo gestendo l'intervento sia delle motovedette sia di altri mezzi aerei che hanno l'incorico di verificare esattamente quello che l'aereo ha visto e nel caso degli elicotteri anche verricellare eventualmente feriti, naufraghi, persone che devono essere ancora via e purtroppo se del caso anche i cadaveri. L'esercitazione non riguarda solo la nostra organizzazione ma anche l'organizzazione della protezione civile e del 118 che ha già allestito un punto di primo ricovero e primo intervento in porto E cambiamo argomento, riconsegnata questa mattina dopo i lavori di ristrutturazione e miglioramento antisismico la scuola media Dante Alighieri di Spoltore, primo istituto scolastico italiano ad aver ricevuto il maggiore importo del progetto del governo denominato Scuole Sicure, Elisa Leuzzo Ristrutturazione e miglioramento sismico sono i lavori eseguiti con 3,5 dei 44 milioni destinati all'Abruzzo nell'ambito del progetto hashtag Scuole Sicure di Renzi La scuola media Dante Alighieri di Spoltore non solo è rientrata a far parte del primo elenco dei 1639 istituti redatto dal governo per la messa in sicurezza ma è anche la più finanziata, cioè l'istituto che ha ricevuto il maggior importo Abbiamo garantito una scuola più sicura rispetto a prima e abbiamo ammodernato, ammodernato con degli standard che credo in regione Abruzzo non ce ne siano oltre che una scuola più sicura questo edificio sarà un edificio scolastico in classe energetica A e forse anche di più mi dicono adesso che stanno facendo le certificazioni quindi risparmieremo veramente tanti soldi e c'è anche l'aspetto sostenibile della scuola Si può migliorare un edificio scolastico datato? Sicuramente sì, questo si può fare ovviamente con degli interventi particolari tipo quello che è stato fatto in questa scuola dove noi qua abbiamo completamente ricostruito tutti i pilastri ex nuovo rifatte tutte le armature sia verticale che tutti gli staffaggi orizzontali delle strutture tutte le trave sono state rinforzate con delle fibre di carbonio così come tutte le staffe dove mancavano perché era un edificio ovviamente datato questo è un edificio che risale agli anni 60 quindi ovviamente con tutte le problematiche delle strutture che sono state costruite negli anni 60 Lei prima mi parlava di differenza tra miglioramento sismico e adeguamento qual è? Il miglioramento vuol dire che io devo portare l'edificio a un grado di sismicità inferiore l'adeguamento vuol dire che io devo portare l'edificio che deve rispondere ai requisiti che se succede un terremoto l'edificio comunque deve resistere può avere ovviamente dei danni, può subire dei danni ma non devono essere danni che portano al crollo o comunque alla perdita delle vite umane non può portare a una cosa del genere ovviamente se noi l'edificio lo consideriamo adeguato sismicamente E noi parliamo ancora di scuole, ci spostiamo a Teramo perché il giorno di riapertura delle scuole nel capoluogo a Prutino resta incerto intanto il primo cittadino Maurizio Brucchi ha formato un pool di lavoro con i quattro ordini professionali per le verifiche sismiche proprio all'interno degli istituti scolastici L'obiettivo è quello di convenzionarci con gli ordini per costituire dei pool formati da un ingegnere, un architetto, un geometra, un geologo che andranno a fare le 19 verifiche più abbiamo aggiunto la Molinari che riteniamo possa essere in questo momento una struttura da tenere a disposizione perché continuano le verifiche sismiche le verifiche da parte della protezione civile sulle strutture superiori tipo stamattina all'artistico e quindi in qualche modo io non me lo auguro però comunque ritengo che sia anche questo importante direi che è anche un passaggio importante di collaborazione e in questo caso taenti direi anche innovativo io davvero ringrazio gli ordini che mi hanno espresso anche la volontà di voler andare un po' oltre quella che è la verifica sismica fino a se stesso ma di voler iniziare un percorso nuovo su quello che è un nuovo approccio sulla sicurezza in questo caso degli edifici pubblici ma non solo anche degli edifici privati perché vorrei ricordare a me stesso ma anche a tutti i cittadini che l'obbligo della legge di marzo 2013 è sia per gli edifici pubblici ma anche per quelli privati Nel frattempo le scuole potranno riaprire il 12 si può ipotizzare una data già? Guardi, le nostre scuole materne, elementari e medie sono pronte il 12 ora è chiaro che c'è un po' una tensione una preoccupazione giustificata per cui rifletteremo insieme ai direttori didattici se magari prolungare aprire insieme alle superiori il 19 però questa è una scelta che voglio fare insieme ai direttori didattici fermo restante e ribadendo che però le nostre scuole di oggi sono pronte quindi sarebbe soltanto comunque una forma di contributo psicologico a chi vive questa situazione come giusto e normale che sia con particolare ansia e noi ora cambiando argomento ci spostiamo a Pescara perché questa mattina il centralino dell'ospedale civile ha visto al lavoro un solo operatore su 5 4 dipendenti hanno infatti regolarmente timbrato il cartellino e poi sono usciti dalla loro stanza di lavoro a causare il disagio è stata la presenza di un cane guida che dal primo settembre accompagna al lavoro un loro collega non vedente noi siamo andati ad ascoltare le parti in causa telefoni appoggiati sulla scrivania sedie vuote e quattro operatori del centralino del polo ospedaliero di Pescara che attendono in piedi fuori dalla stanza di loro competenza un caso che trova le sue radici nell'arrivo di una collega non vedente accompagnata al lavoro dal suo cane guida Mindy una femmina di labrador che dal primo settembre veglia fedelmente la sua padrona nel corso delle ore di lavoro i problemi si erano avvertiti già il secondo giorno il 2 settembre quando i quattro colleghi avevano fatto presente alla direzione il disagio vissuto nel condividere la stanza con un cane di grossa taglia nel comunicato prodotto dalla Will si legge di un malore causato dal cattivo odore del cane che avrebbe procurato la necessità dell'intervento del 118 per una reazione vasovagale secondo la Will il rischio sarebbe la salute di ogni lavoratore per il rischio igienico qualcuno lamenta anche paura dovuta alla grossa taglia del cane la Will chiede provvedimenti immediati tra i quali la disposizione di tenere Mindy legata lungo il corridoio al di fuori della sala centralino per tutta la durata del turno di lavoro intanto Silvia questo è il nome della centralinista non vedente questa mattina si è trovata sola a gestire il traffico di chiamate in entrata con molte difficoltà e questo è il suo racconto il problema è che all'inizio il mio dirigente mi aveva chiesto esplicitamente ovviamente verbalmente diciamo di non creargli problemi queste sono state le sue parole perché la situazione qui dentro era che non volevano il cane perché insomma per tanti motivi e quindi mi hanno detto cerca di non crearmi problemi entrambe le parti in causa si sono rivolte al manager dell'asla di Pescara chiedendo di ottenere una soluzione che rispetti le esigenze di ognuno e soprattutto che garantisca il funzionamento di un servizio pubblico che oggi ha visto rimanere vuote 4 postazioni su 5 sinceramente sono rimasta da sola avevo avuto un po' di difficoltà perché praticamente io non ho neanche la postazione adeguata infatti lei non vede un computer no? ok perfetto quindi in ospedale ci sono reperibilità cellulari di medici che i reparti mi chiedono e io quindi sono stata costretta a chiamare il direttore sanitario e dirgli che ho questa situazione quindi eventualmente diciamo mi avevano chiesto dei cellulari, dei reperibili che io non potevo cercare e poi il direttore sanitario gentilmente mi ha risolto il problema momentaneamente e niente questa è la situazione e su quanto è accaduto questa mattina all'ospedale di Pescara si registra l'intervento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ieri ed oggi sono stato ha detto Pettinari come di consenso di effettuare visite ispettive presso l'ospedale di Pescara e tra le altre cose dice il consigliere regionale ho potuto verificare di persona che il centralino era sprovvisto delle unità previste causando così enormi disservizi all'utenza servita inoltrerò una interrogazione all'aggiunta regionale per conoscere se nella protesta odierna vi siano state responsabilità del personale dipendente dei funzionari e dirigenti preposti al controllo il centralino dell'ospedale di Pescara non può subire disservizi di tal genere per nessuna ragione intervenca ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle il direttore generale per trovare immediata sistemazione del personale se costretto ad operare in condizioni non idonee e noi torniamo a parlare del post terremoto perché l'assessore comunale alla ricostruzione dell'Aquila Pietro Di Stefano denuncia un ritardo notevole nella presentazione dei progetti spesso incompleti e ha proposto per questo di commissariare le pratiche lente siamo al paradosso dice Di Stefano con i soldi in cassa cittadini e progettisti non presentano i progetti Di Stefano annuncia la linea dura Daniela Rosone solo 15 milioni di euro di progetti finanziati se il 17esimo elenco dovesse uscire ora questa sarebbe l'attuale situazione non 100 milioni di euro come si era prefisso l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila Pietro Di Stefano lontanissimi dagli 800 milioni che si erano addirittura richiesti non siamo in condizioni di fare uscire un elenco corposo perché è sempre il sogno mancano i progetti ad andare a finanziamento paradossalmente i soldi ci sono però non si riesce a far completare l'idere dei progetti perché sono incompleti perché non integrano perché a volte dimenticano di mettere delle cose insomma siamo al paradosso io credo che la si debba smettere di giocare a Penelope e Ulisse nel senso che per Ulisse chi fa la tela è chi la disfa durante la notte non è possibile questa è una città che va ricostruita abbiamo fatto battaglie per avere i fondi adesso io non accetto assolutamente non accetto questo tipo di ritardi questo tipo di superficialità sono decisa ad andare fino in fondo così si pensa addirittura ad una delibera di giunta che rende impossibile presentare progetti incompleti i tecnici spesso li depositano comunque allungando di molto i tempi una situazione di stallo questa che di Stefano per la verità va denunciando da mesi tant'è che ha chiesto anche ai suoi uffici una ricognizione più precisa la responsabilità è di coloro che presentano i progetti è il titolare del contributo noi abbiamo scelto una strada che è quella dell'indennizzo il titolare è il cittadino è il cittadino che si deve rendere responsabile attraverso tutti gli attori di quel progetto il rischio di perdere fondi infatti in un momento in cui sul territorio c'è un'altra emergenza in corso il terremoto di Amatrice è più che concreto non quelli ovviamente che il comune ha già in cassetto ma potrebbe darsi che il Cipe decida di assegnare all'Aquila sempre meno fondi un'altra soluzione spiega di Stefano potrebbe essere quella di commissariare non solo i cantieri e le pratiche ferme ma anche quelle che procedono con eccessiva lentezza ci sono strumenti di commissariamento per gli aggregati e i consorsi non costituiti ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con l'albo dei commissari chiedo all'usra di un provvedimento che mi dia la possibilità di commissariare anche quelli che vanno lenti quelli che non camminano ancora di più se abbiamo dato il contributo quel contributo sta in banca e non viene speso Cambiamo ancora pagina nei mesi di settembre ed ottobre previsti numerosi appuntamenti nella nostra regione organizzati dal coordinamento regionale di democrazia costituzionale per il no al referendum Il coordinamento regionale di democrazia costituzionale e la rete dei comitati per il no della regione Abruzzo promuovono insieme ad altre organizzazioni una serie di dibattiti discussioni e confronti con i cittadini abruzzesi portando le ragioni del no alla revisione costituzionale Saranno presenti nella nostra regione varie personalità a partire dal presidente del comitato nazionale Alessandro Pace che sarà due volte qui il 23 e il 19 il 19 a Chieti e il 23 sarà qui a Vasto quindi sempre in provincia di Chieti per il resto le iniziative si articolano in tutta la regione abbiamo iniziative in provincia di Teramo le prossime che ci saranno appunto si terranno il 15 a Teramo con l'avvocato Felice Besostri che è l'avvocato che impugnò dinanzi alla Corte Costituzionale il Porcellum e ha impugnato anche in 19 tribunali l'attuale legge elettorale denominata Italicum il 4 ottobre infatti ci sarà un primo pronunciamento della Corte Costituzionale e poi il 17 avremo a Roseto degli Abruzzi il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena che incentrerà il suo intervento maggiormente sui profili che riguardano il rapporto fra questa deforma costituzionale proposta dal Governo Renzi e le forze trasnazionali di carattere finanziario che la impongono perché esiste un rapporto molto stretto fra esigenze della finanza internazionale ed europea portate avanti da organismi tecnocratici come la Troica e le scelte politiche che gli Stati nazionali europei dovrebbero compiere sulla base di queste esigenze lontane mille anni luce da quelle reali delle cittadinanze delle popolazioni Parliamo ora di editoria perché il sindacato dei giornalisti abruzzesi sarà a Roma martedì prossimo 13 settembre al tavolo convocato dal segretario della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Raffaele Lorusso dopo la cessione dei quotidiani il centro di Pescara e la città di Salerno deciso dal gruppo l'Espresso Finegil a renderlo noto in un comunicato lo stesso sindacato il sindacato dei giornalisti abruzzesi è pienamente impegnato si legge nella nota a sostenere i colleghi in una fase che al momento si presenta densa di incognite viste le modalità con le quali è maturata questa decisione comunicata in videoconferenza a cose fatte senza alcuna informazione circa il piano industriale una vicenda che vede in prima linea quindi la Federazione Nazionale della stampa per garantire che i passaggi di proprietà delle due testate locali oltre al centro anche la città di Salerno avvenga con ampie garanzie sul piano dell'occupazione e su quello altrettanto importante del pluralismo e dell'autonomia dell'informazione così come avevamo scritto a luglio in una nota congiunta con l'ordine dei giornalisti d'Abruzzo si ricorda nella nota del sindacato il centro è l'unico quotidiano a diffusione regionale che nasce in Abruzzo unica realtà editoriale sociale culturale ed economica patrimonio di tutti un patrimonio che può essere salvaguardato solo se la cessione si legge nella nota avviene nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e della storia editoriale della testata cambiamo pagina partono all'Aquila laboratori artistici rivolti a ragazzi dai 16 ai 19 anni compresi gli utenti dei centri diurni per disabili il servizio di Filippo Tronca un luogo dove incontrarsi un palcoscenico dove esprimersi e mettersi in gioco questo propone il progetto Piazze d'Arti Diamoci da Fare che prende il via all'Aquila fino al giugno 2017 a cura dell'associazione teatrabile finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali laboratori teatrali artistici saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni e in particolare agli utenti dei centri diurni psichiatrici e ai loro familiari questo progetto mette insieme arte e cultura quindi promozione artistica e promozione culturale per anche l'animazione del territorio a chi è destinato a dei ragazzi ma contemporaneamente anche ai loro accompagnatori e ai loro genitori ai ragazzi quindi a tutti i ragazzi anche quelli del mondo della disabilità dello svantaggio sociale cosa si propone delle attività culturali pratiche quindi laboratori pratici teatrali che immediatamente portano anche a delle uscite pubbliche per l'animazione del territorio quindi nei luoghi della città lo scopo è quello di conciliare gli spazi di vita con gli spazi di lavoro perché esistono molte iniziative per i ragazzi ma non esistono invece per i genitori che non hanno dei momenti di inconfronto e di crescita vera quindi noi vogliamo accumulare queste attività parallele per dare la possibilità di implementare le competenze genitoriali e anche creare una rete dei genitori che li possa appunto sostenere e accompagnare nel loro percorso parliamo ora di enologie di vino idea vincente quella degli organizzatori della prima edizione del Wine Foruli che hanno cambiato il volto del loro borgo trasformandolo in un percorso di cantine e punti di degustazione tutto questo a Civita Tomassa frazione scusate del popoloso comune di Scoppito nell'Aquilano un grandissimo successo nei giorni scorsi a Civita Tomassa frazione del popoloso comune di Scoppito due passi dall'Aquila per la prima edizione del Wine Foruli nell'antico borgo di Foruli a Limbrunire cantine aperte negli angoli più suggestivi del paese con degustazioni di vini artisti di strada e stand una festa del buon vino che ha portato a Civita Tomassa a moltissime persone un percorso del gusto nei vicoli dell'antico borgo un modo per rivitalizzare il paese con iniziative importanti che restituiscono al visitatore la bellezza di borghi ancora poco conosciuti seppur molto importanti nella storia cittadina Civita Tomassa infatti nasce sui resti dell'antica Foruli vicus romano dipendente all'epoca da Miternum un borgo che molti non sanno concorse con altri castelli alla fondazione dell'Aquila nel 1254 l'importanza delle tradizioni e della conoscenza che grazie agli organizzatori del Wine Foruli ha permesso a molte persone anche turisti di conoscere e apprezzare alcune frazioni del territorio aquilano diverse le cantine che hanno partecipato all'evento che ha portato le degustazioni in paese in una passeggiata all'insegna del buon vino e dei prodotti tipici locali siamo lo sport al calcio per parlare del Pescara che si prepara alla sfida di domenica sera con l'Inter fischio d'inizio previsto per le 20.45 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia Pescara che sarà praticamente al gran completo un piccolo problema per Ghiomber al dito della mano sinistra ma il giocatore sarà regolarmente in campo qualche problema ieri anche per Mitriza che oggi però si unirà ai compagni per l'allenamento del pomeriggio la certezza riguarda il pienone allo stadio Adriatico con oltre 21.000 spettatori nella formazione iniziale che dovrebbe scendere in campo contro i Nerazzurri previsto l'esordio di Alberto Aquilani vediamo i servizi Sarà un Pescara al gran completo quello che scenderà in campo domenica alle 20.45 contro l'Inter nel posticipo della terza giornata del massimo campionato la sosta del torneo ha permesso al tecnico pescarese Massimo Oddo di recuperare quei giocatori che erano in ritardo di condizione e che potranno invece andare a far parte degli arruolabili per la sfida con la corazzata Nerazzurra in casa Adriatica si respira un clima di moderato ottimismo senza ovviamente nascondere le difficoltà che ci saranno nei 90 minuti contro la squadra di De Boer il pescare è pronto ancora a stupire e a confermare quella che oggi è la sua vera forza il gioco sul fronte formazione il trainer pescarese proporrà sicuramente qualche variante rispetto alla gara di Reggio Emilia con il Sassuolo quasi certo l'esordio del primo minuto di Alberto Aquilani che potrebbe giocare come metronomo centrale in questo caso sarà Brugman a fargli spazio ma non è da escludere un impiego più in avanti dell'ex romanista in attacco l'enigma riguarda il ruolo di punta centrale c'è ad oggi infatti un doppio ballottaggio Oddo dovrà decidere se far giocare ancora Caprari come falso nuovo o affidarsi ad una punta di ruolo con Payback e Manai in ellizza più di un dubbio che Oddo scioglierà nella rifinitura di sabato nell'Inter spazio a João Mario con il probabile ritorno di Nagatomo in difesa in attacco il sacrificato potrebbe essere Eder fra tanti dubbi una certezza il pienone allo stadio adriatico con oltre 21.000 spettatori sugli spalti Parliamo ora di Lega Pro del Teramo che prosegue la marcia di avvicinamento la gara di sabato pomeriggio alle 16.30 sul campo del Pordenone Biancorossi che hanno totalizzato un solo punto nelle prime due giornate di campionato che quindi sono alla ricerca del primo successo stagionale noi abbiamo ascoltato il portiere Biancorosso Rossi penso ci siano stati un po' di episodi penso sia stata una buona parata però come ci sono state tante altre occasioni dei miei compagni in cui sono stati bravissimi per cui penso che siamo partiti un po' così abbiamo preso subito il gol però siamo stati bravi a reggere e penso l'inerzia sia cambiata più che altro sul gol ma anche sul gol nostro e poi comunque già due o tre minuti prima abbiamo capito tutti di aver fatto una brutta prestazione volevamo reagire siamo partiti male però avevamo proprio voglia di dimostrare cosa possiamo fare e chi possiamo essere tutto il campionato sia fatto da ottimi sia composto da squadre con ottimi attaccanti però questo non ci spaventa perché davanti a me ho anche degli ottimi difensori per cui sono tranquillo motivato e sappiamo che dobbiamo dare continuità di prestazione è la prima volta forse che gioco con così tanta gente sono contento sono contento perché ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto sia questa partita sia comunque a Lumezzane anche negli ultimi minuti sono stati penso ci abbiano dato la carica a tutti perché comunque si vedeva che potevamo segnare da un momento all'altro e ci hanno di sicuro dato una mano io sono contento appunto di avere i tifosi alle spalle e di essere seguito da tutta questa gente ed è tutto per la prima edizione del TG6 vi ricordo gli altri appuntamenti con l'informazione su TV6 per la seconda edizione alle 19 la terza alle 23 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata di giornata a